ciao ragazzi bentornati sul canale io sono domenico e io sono marco e cosa abbiamo oggi bt8 perché semplicemente perché era in offerta allora visto che ci manca un bel po di carte ne ho approfittato io per e come vi avevamo promesso nei video precedenti fatte da vedere ci portiamo qui dei big pack open di bt8 alla ricerca delle carte mancanti su questo secret sempre solo lui sempre attracca vabbè c'erano 84 perfetto vediamo è buono già te l'ho dato questo è il box da il box da 3 spr assicurate infatti le spr sono la prima cosa l'unica cosa che abbiamo completato o mio dio a quelle che valgono di meno esatto sono le spr che vendono di meno le interspazio di grano sono pure quelle che valgono 2 euro ti rendi conto che bello posso buttare per terra le bustine poi raccolgo perché come perché perché sennò uno spazio sul tavolo doppia rarità subito subito o mio dio e nvr che tra l'altro mi mancava questa bisogna mi mancano un bel po di queste carte perché come ben sapete noi facciamo i 4 per e avendo spacchettato poco bt8 non è che abbiamo tutti i 4 per ancora scr no scherzo sia c'è un po è un po differente questa la reazione no ma la reazione più che altro è che ovvio si o l'escr scr cos'è cos'è questa che hanno messo si va e tolgo un po è tanto ormai le conoscete un po avanti e per trovarci di fronte ad un'altra doppia rarità non è vero o sr pan non ci credo la rarissima fan si ciao se non è c'è a me vincano si a me di sta stronzetta me ne manca una la vorrei trovare grazie visto che costa ecco qua le pelle perfecta ce la mettiamo subito il box con panno beccato tanta roba volevo sto facendo un po di spazio perché volevo mettere le carte che trovo così capito in fila cioè ragazzi ho trovato ho trovato più secret che fan è un po vergognoso la cosa no non sei d'accordo anche tu doppia rarità ti prego spr pensavo fosse con un quarto livello che mi manca invece questa e chi è solo lu ti manca go quarto livello spr mi manca a eppure androide 16 oppure no pure androide 16 si ma voglio questo vegeta quindi o sr c'era già tre ma che si dovrà invertire questo con questo però c'è c'è parola goku c'è parola mia allora se ti dovesse uscire anche virus io me ne vado perché trovato le 3 migliori tu conta chi non avesse mai aperto bt 8 questo pool sarebbe spettacolare se hai il mio tarles vuol dire che trovo rara trovi il tuo accia che trovo la sigla non può essere il box perfetto ti fai provisto fan goku e secret nello stesso box doppia e la questa è buona spr si l'ho chiamata ma che box degli idee dai ci manca solo la sigla e questo è il box migliore di sempre eppure lui eppure lui ma che box spettacolare cioè sono uscite due spr base cioè quelle là proprio che vengono dalla sr esatto ok vengono dalla doppia sr la cosa bella è che ti ricordi tu quando stai arrivato te lo sei dovuto procurare prima del torneo si senza motivo e poi neanche l'ho usato al torneo sr ohoo mi manca queste mi sono sceglute le carte che mi mancano quasi quasi per noi di box e dite altre 3-4 eh si 3-4 è arrivato doppia NHR di vegeta doppia non è vero guarda giù cili direttamente l'ultimo eccolo non ci credo cioè ragazzi vabbè ho trovato il box delle SPR assunte cioè nel senso le 2 migliori SPR se non mi sbaglio sono androide 16 e goku super ho trovato le 3 migliori SPR oh se ti dovessi uscire pure la siga e ti non ti rivolgo più la porta in un mese vedi di creati del materiale per il canale da solo che cavolo diciamo allora dopo quello che ho trovato finora no ma tanto sei cattivo eh se non stavi trovando nulla dicevo si e poi te l'ho detto che le sfere le puoi trovare ma le sfere già ce le ho perché tu le trovi scusa vuoi la siga e ti accontentati sempre sto Trunks quanti pacchetti ti mancano? non te lo dico perché mi metti l'ansia e poi si ne esce la siga e tu dal pacchetto e non lo trovi vabbè ho tipo 8 o 9 eh vabbè perché devi far così eh ma io non ho capito oh mio dio e ne ha car cioè no dico è l'altra volta lui eh dico dico grazie al cavolo sei contento ma doppia versione dico coupon android 16 cioè c'è gente che deve aprire tre box per trovare quello che hai trovato tu qui eh ma vai io sono fra quelli non mica il primo box che tanto cioè ricordiamo al pubblico che ci sta guardando che tu hai trovato 5 virus in questa espansione capirai capirai 25 euro di carta all'epoca all'epoca non ci crede vabbè puoi pensare a le carte che non devo trovare così le trovo per piacere vabbè cioè so tanto tipo sto dicendo i doppioni quelli che non ti servono ovvero virus go eccetera cioè tra poi ti rifai il pezzo del box ma penso che ci sia già arrivato il pezzo del box vabbè totale penso di sì direttamente rara senza doppia realtà eh ci mancherebbe altro sai come esistono pure questi pacchetti no per dire che non faccio sempre lo scherzetto eh prima le grattate le mosse tutte e poi vabbè scusa stai rifando male che colpa mia un god bug oppure la secret cioè SR sì ragazzi tutte le SR migliori ufficiale sì prova qua se trovo un altro guarda 6 SR ho trovato oddio aspetta mi sa che 5 se ne trovo aspetta 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 1 2 3 4 5 6 6 3 3 3 3 3 NHR 1 1 VR se deve uscire la secret è un box vergognoso diventa appunto talmente che è perfetto che è vergognoso vuoto eh sì è vero c'era un pacchetto uno o due pacchetti vuoti ti ricordi e dove sono vediamo se trovi il secondo dove sono i miei pacchetti sostitutivi eh mo metà prezzo mo vuoi pure i pacchetti sostitutivi eh sì ragazzi mi merito una secret pur di non darmi la secret guarda che fanno ibr sì pur di non darmi la secret non esce mai l'ibrd di android 21 è tipo di no solo uno cioè pur di non darmi la secret mi fanno trovare il mondo capito però la secret domenica non la deve trovare mai nella vita ma dove te l'ho detto se tu trovi c'era ma vai ci pulisci il culo per quello che trovi il resto buono sbusto qua l'ultimo pacchetto guarda vuok tac r vabbè ragazzi ha trovato il mondo cioè non penso che a parte la secret non penso che anzi in realtà io veramente non pensavo esistesse un box dove hanno avuto tutte queste canne cioè oan e goku android 216 virus android 216 goku e peccato che non ci sta la versione spr di panno di virus se no sarebbe stata quella la terza carta spr 2 allora vediamo se riesco a disporle bene nell'inquadratura e questo è il pool incredibile allucinante del box che ho appena aperto se il video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuno dei nostri video che escono sempre ogni lunedì e giovedì esatto seguiteci anche su instagram yes e ciao ragazzi al prossimo video ciao no però non ho tolto internet se poi suona meno male ho detto trini trini Grazie a tutti.